Conduttore d'eccezione della Festa del Pane, Salvo la Rosa, qui a Borgata Costiera per questa quinta edizione che vedrà tante novità, tante serate emozionanti con la tua conduzione. Sono molto contento anche perché non è la prima volta che vengo qui a Mazzara del Vallo e a Borgata Costiera. Ho fatto tante cose belle sempre col mio amico Francesco Foggia, con la mia amica Alessandra Alamia. Ho fatto anche una festa del pane e della pasta qualche anno fa, poi ho fatto anche Semplicemente Meraviglioso, che è stata un'altra bella iniziativa di Francesco e quindi sono contento che quest'anno possa stare qui per tre giorni. Peraltro oggi, prima serata, al fianco del mio amico di sempre, del signor Litterio Scalisi, del grande amico mio Enrico Guarneri. Nella seconda serata sarò con Uccio De Santis, altro mio amico, cabarettista comico pugliese tra i più bravi in Italia. E poi chiuderemo con altri due amici come Toti e Totino, con i quali abbiamo fatto tante cose in televisione e anche in giro per la Sicilia. Quindi grazie all'UNAC, l'associazione nazionale Arma Carabinieri, grazie a Francesco Foggia, ad Alessandra Alamia, all'assessorato regionale alle attività produttive, all'ARS e a tutti voi che siete veramente straordinari, insieme con tutte le persone che hanno investito su questa festa. Stasera migliaia di persone, quindi inizio strepitoso. Cut tut tu cori!